Una città, una maglia, un amore. Grigi nel cuore, ogni giovedì ore 21 e 15 su Telesity 1, canale 111 del Digitale Terrestre. Un appuntamento esclusivo con l'Alessandria Calcio. Lo Sport, in collaborazione con... Dai più valore alla tua casa. Scegli Pegaso, i veri mobili artigianali veniti in legno massiccio. Una grande esposizione per arredare con mobili di qualità a prezzi imbattibili. E in più, tutta la convenienza di finanziamenti personalizzati all'interno del punto vendita. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi e Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it Anche in una gelida serata come quella di ieri, l'Alessandria è riuscita a scaldare i cuori dei pochi tifosi presenti. Circa 400 volando ai quarti di finale di Coppa Italia. L'ottavo, giocato al Mocca Gatta contro l'Albino Leffe, è stata una partita quasi infinita. Terminata solo dopo la lotteria dei rigori, vinta dai Grigi per 7-6. Tra tempi regolamentari e supplementari, era finita 2-2 con un primo tempo a basse intensità di emozioni per entrambe le squadre e terminato 0-0. Poi, al sedicesimo della ripresa, il vantaggio dell'Albino Leffe con Montella che realizza il rigore causato da un fallo evitabile di Casasola su Sibilli. Poi ai Grigi vengono i due minuti e la ribaltano. Prima Casasola di destro si fa perdonare il fallo del penati e trova l'1-1. Poi, al trentacinquesimo, Rossetti illumina per González che supera il portiere ospite con il pallonetto del 2-1. Sembra fatta, poi in pieno recupero gli Orobi ci pareggiano e trovano il 2-2 con Colombi. Supplementari guardinghi per entrambe le squadre che si stuzzicano ma non affondano il colpo del KO. E si arriva ai rigori, nella sequenza dagli 11 metri a segno per i Grigi, González, Fischnaller, Casasola, Giosa e quando arriva il primo errore, che è di Giorgione dell'Albino Leffe, che coglie la traversa, arriva anche il rigore decisivo e di Marconi che non sbaglia. 7-6 il finale, il cammino in Coppa Italia di Serie C dell'Alessandria dunque prosegue. I quarti di finale sono in programma il prossimo 7 febbraio e toccherà a Renate. Qualificato come Viterbese Paganese e in attesa delle altre 4 sfide degli ottavi che si giocheranno a gennaio. Il cammino di Coppa, quello di campionato, la vittoria sulla Pistoiese e che domenica arriva al Giro di Boa con il derby contro il Cuneo, ma anche il buon impatto di mister Michele Marcolini, saranno alcuni degli argomenti che questa sera verranno trattati nella nostra trasmissione Grigi nel Cuore in onda alle ore 21.15 su Telecity1, canale 111 del Digitale Terrestre. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi e Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it Il meteo, in collaborazione con Piera, la profumeria selettiva di Alessandria, in via Dante 135, dove trovi in esclusiva le fragranze di Enic Guttalle, Penaligon, Robert Piguet, Acqua dell'Elba, Caronne, Farmacia Sant'Annunziata, Etro. La profumeria Piera vi propone anche la cosmesi dei migliori brand svizzeri. CBN, Apodcare, LBF e per Natale confezioni personalizzate e alta bigiotteria.